Amici sportivi, amici fanta allenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Tra le tantissime funzioni di Fanta Lab ce n'è una a cui sono particolarmente affezionato, è quella dei prezzi medi di acquisto in altre leghe. C'è un campione veramente rappresentativo, centinaia e centinaia di aste rappresentate da Fanta Lab. Per questo motivo il dato è davvero molto vicino alla realtà. Per questo motivo vi consiglio di fare il passaggio sulla premium, perché vi permette di avere anche questa funzione, cioè il P-MAL, prezzi medi di acquisto in altre leghe. Oggi analizziamo i portieri in un fantacalcio tipo Lega 10, con modificatore di difesa. Quindi è davvero molto importante, scopriamo quali sono i portieri più pagati e come muoversi di conseguenza rispetto all'asta del fantacalcio. I più pagati, ma è abbastanza ovvio, sono loro due. Sono i portieri di Juve e Milan, in particolare il polacco Schesny, e il francese di Milan, Mike Magnan, Magic Mike. Magic Mike ha pagato 11,1%, 0,1% in più di meno rispetto al polacco della Juventus, 11,2%, ma sono davvero molto vicini. In effetti sono i portieri più ambienti, anche perché la Juventus si è molto attrezzata bene in difesa e Milan continua a mantenere un ottimo portiere, molto scenografico, che piace molto ai paggielisti, quindi per i modificatori di difesa è davvero molto importante avere i francesi. Io tra i due non saprei chi scegliere, mi piazzerei però più sul polacco, perché effettivamente la difesa di Juve stanno da delle grandi segni di solidità e soprattutto la Juventus avrà solo il campionato, quindi si concentrerà moltissimo. Chiaramente, ma come in questi casi, fare il pacchetto della squadra completa è d'obbligo, perché ovviamente non dobbiamo avere sorprese, quindi avere anche il secondo e il terzo della squadra. In terza e quarta posizione abbiamo i portieri leggermente più sotto, che sono i portieri campioni d'Italia Meret del Napoli, che ha subito un gol contro il Frosinone, e Sommer, che ha fatto un buon esordio contro il Monzano subendo gol, pagati il 10% Sommer, lo Svizzero, e il 10.1% il portiere del Napoli, Meret. Sono portieri molto affidabili, direi molto molto da modificatori di difesa, per questo motivo sono ampiamente consigliati, si pagano un per cento in meno rispetto ai super top, ed è un consiglio importante questo. Se vi capita appunto l'occasione di chiamarli subito per pagare un prezzo intorno al 9-10%, secondo me è un ottimo affare, e attenzione perché subire pochi malus vuol dire evitare di dover sopperire a queste negatività con i gol degli attaccanti. Quindi tante volte ci soffermiamo sui portieri in maniera un po' ambigua, ma effettivamente avere dei ottimi portieri può aiutarci molto per il fantagaccio. Quindi assolutamente da attenzionare, anche perché si pagano un pochettino a meno rispetto ai super top. Portieri che invece sono andati un po' male in questa giornata, nel senso che hanno subito due gol ciascuno, sono i portieri delle Romane, in particolare Provvedele e Rui Patricio. Si pagavano già un pochettino meno rispetto ai super top, e anche a Sommer e a Meret. Si pagano rispettivamente, Rui Patricio 8.4%, Provvedele 9.3%, perché? Perché Rui Patricio ha una media voto più bassa, è un portiere abbastanza affidabile come Golso Bitti, ma meno spettacolare a livello di media voto. Invece Provvedele è un portiere molto molto bravo, anche in fase di parate e molto scenografico, diciamo, per i pagellisti. A me, sinceramente, tra i due piace molto di più Provvedele, è un portiere che mi piace davvero tanto, ci può aiutare tanto per il fantacalcio, anche perché, avendo subito il luogo contro le lecce, se dovete fare le aste fantacalcio in questi giorni, sono prezzi che vanno un pochettino a ribasso. Un po' come l'anno scorso, chiaramente l'anno scorso la porta Lazio si pagava intorno al 4-5%, quest'anno un po' di più, diciamo, intorno al doppio, però sicuramente sono un portiere molto solito. Mancava Casale nella Lazio, mancava Ndicca nella Roma, un po' a ritardo di condizione, no, chissà, romanista. Per questo motivo dico attenzione, perché potete avere un ottimo, un ottimo innesto da questi portieri. Chiudiamo, ricordandovi di scaricare la mia strategia su Fanta Lab, davvero importante, se non l'avete ancora fatto, utilizzate i sistemi a premium per arrivare a questo obiettivo. Io vi aspetto presto sul Viterlano e sulla pagina di Fanta Lab. Un abbraccio a tutti voi e buon fantacalcio a tutti. Ciao ragazzi!